Dal carcere dove si trova detenuto aveva già preordinato una serie di attentati per intimidire i testimoni e così è scattata l'operazione opera dei pupi portata a termine dai poliziotti del commissariato di Pachino con il coordinamento del PM Gaetano Bono. Sono state messe in atto le ordinanze custode cautelare in carcere messe dal GIP della Tribunale Andrea Mignieco nei confronti di Renato Boager 54 anni attualmente detenuto nel carcere di Paola a Cosenza Antonio Piazzese 41 anni rosolinese attualmente gli arresti domiciliari Corrado Caruso anche lui detenuto però a Cavadonna e Maria Caruso la convivente 57 anni rosolinese e Cristian Rubbera 28 anni anche lui rosolinese. Sono diversi gli episodi che sotto la lente di ingrandimento della procura e degli investigatori della polizia in particolare il primo episodio avvenuto la sera del 16 ottobre 2018 intorno alle 2 è stato collegato dinanzi a un negozio di ricambi per auto di proprietà di Giuseppe Boager fratello di Renato Boager a Pachino un ordigno che però non è esploso per un difetto di innesco. Il secondo episodio è la sera del 31 ottobre quando poco prima del luna è stata data alle fiamme la Fiat Panda di proprietà sempre di Giuseppe Boager ma in uso al figlio Salvatore. Il terzo episodio è quello a cui si riferiscono le immagini verificato il 14 novembre successivo un secondo ordigno piazzato nuovamente dinanzi alla sera cinesca del medesimo esercizio commerciale è stato fatto esplodere provocando ingenti danni. Gli episodi sin da subito sono stati inquadrati nell'ambito di una contrapposizione familiare già in essere da almeno due anni che vedeva Renato Boager personaggio di spezzore criminale ben conosciuto a Pachino protagonista di atti di violenza nei confronti dei parenti e che non attuava personalmente poiché è considerato strategia criminale aveva commissionato questi atti ad altre persone. Per questo motivo Boager è stato condannato alla penna ai cinque anni e tre mesi di reclusione e proprio per questo condanna aveva deciso di farla pagare al fratello. Le indagini portate a termine dal commissariato di Pachino per i tre episodi hanno tratto spunti utili da quanto emerso dalle rilevazioni dell'immagine della videosorveglianza. Mentre più immediata risultava l'indagine relativa all'incendio della vettuvettura Fiat Panda di proprietà di Giuseppe Boager che portava al fermo l'indiziato di delitto. Già nella stessa giornata a carico di Michael Ziz e Salvatore Cianchino di quell'atto intimidatorio gli autori materiali soltanto successivamente a conclusione dell'indagine emergerà che il mandante fosse stato Renato Boager. Negli atti intimidatori a danni dell'attività commerciale gestita da Boager le telecamere hanno consentito di raccogliere i primi elementi fondamentali per l'indagine fino a partire dalla presenza sul luogo del delitto dell'autovettura 147 di colore grigio di proprietà di Maria Caruso ma in uso a Piazzese. Insomma un giro che ha portato poi direttamente al carcere da dove sarebbero partite gli ordini per realizzare esattamente quanto poi è avvenuto. Significativi anche le intercettazioni eseguite dagli investigatori. Una questione familiare che si stava risolvendo anche nel peggio. Sì è una vicenda familiare, un rancore covato per tanti anni, una persona che nonostante questo significativo fosse ristretto in carcere per vicende appunto legate, le sue reazioni spropositate, parlo del processo per cui è stato condannato il 24 gennaio 2019 a 5 anni e 3 mesi di reclusione. Nonostante questo continuava a covare il rancore e a volersi venticare nei confronti del fratello e degli altri familiari per ragioni insomma di bassa lega. Tentati che vi stavano portando altrove? No, no, che portavano altrove no. Però diciamo che è importante sottolineare che la prima tessera del mosaico era una tessera di per sé muta, neutra perché è un mancato attentato, una mancata esplosione davanti al garage di un venditore di autoricambi. Invece è proprio l'acume investigativo che ha consentito sin da subito di esplorare tutte le possibilità di escludere quelle che non erano corrette e di concentrarsi immediatamente verso la pista giusta che ha portato a queste 5 ordinanze di studio hotelare. Diceva che le persone offese hanno collaborato quindi è ancora di più importante questo. Sì, l'ho detto e lo ribadisco. È importantissimo per le persone offese, per le vittime dei reati, di fidarsi delle forze dell'ordine e della magistratura. Spesso è decisivo il loro contributo perché soltanto loro possono dare quelle indicazioni utili nell'immigliatezza dei fatti per raccogliere gli indizi che portano poi alla cattura e alla raccolta degli elementi di responsabilità degli imputati. Riusciamo ad assicurare dei risultati che purtroppo vorremmo non dover assicurare perché significherebbe allora che il territorio è pulito e sereno. Boagier lo conoscevamo e con precedenti tali da preoccuparci la nostra indagine è stata velocissima proprio per quello perché dovevamo, conoscendolo, porre un freno quanto più tempestivo cercando anche di capire chi erano i complici perché era evidente che sul territorio vi era chi eseguiva gli ordini di Boagier ordini che purtroppo attentavano anche alla vita delle persone e dei suoi familiari. Il controllo criminale del territorio che a Pachino a questo punto diceva lei è in mano a chi? Ma un territorio difficile quello di Pachino dove siamo presenti con quello che possiamo e la magistratura fa tanto insieme a noi per assicurare alla giustizia gli autori dei reati. Purtroppo quello di Boagier che sembrava una faida familiare aveva assunto dei toni preoccupanti. L'importante è averlo scoperto e quindi sicuramente lui ha in animo di continuare e noi non abbiamo nessuna intenzione di desistere. Siamo sempre pronti, credo che comunque questa misura cautelare lo ponga di fronte a una consapevolezza, quella di essere stato scoperto. Grazie. Grazie.